A Baggio, nei locali della Proloco, è stato inaugurato con Versus, progetto espositivo con fotografie, la cui autrice è Claudia Gori, realizzato in collaborazione con la quinta edizione del Performance Art Festival promosso dal Centro Studi Ricerca Espressive di Pistoia. Una mostra che nasce da un progetto di ricerca ben più ampio, condotto dalla storica dell'arte Erika Romano e finanziato dalla Fondazione Caripit sulla Sacra Conversazione, tavola d'altare conservata nella piccola chiesa di San Michele a Cangelo a Baggio, sulle colline di Pistoia. Uno splendido dipinto del pittore fiorentino del Quattrocento Neri di Bici, un vero capolavoro dell'arte, da sempre conservato nella chiesa del piccolo paese, il cui valore solo ora diviene di pubblico dominio grazie all'impegno della Proloco di Baggio. Conversus è il progetto che nasce dopo lo studio di quest'opera e è una mostra fotografica che legge in chiave contemporanea l'opera di questo autore quattrocentesco. Quindi l'artista Claudia Gori, invitata a lavorare a Conversus, ha tradotto in chiave odierna e con il filtro dell'immagine fotografica un'opera antica, riportando, attualizzando ad oggi, riportando ad oggi il suo messaggio antico ma che è sempre attuale. L'autore di quest'opera chi è stato? L'autore di quest'opera è Neri di Bici, un artista del Quattrocento Fiorentino che nasce a Firenze tra il 1418 e il 1420 e morirà nel 1492 sempre a Firenze. Anche perché ha tutto l'interesse, secondo me tutto l'interesse è allargare il panorama di Pistoia, città d'arte, a quella che è l'immediata montagna. Siccome nell'immediata montagna c'è una ricchezza immensa di opere d'arte, ecco, se si parla di recupero della montagna, allora si parla di recupero di uno spirito di opere, dei boschi, del verde. Ecco il perché del progetto Conversus, dell'avvicinarsi all'Erica come persona più adatta a portare avanti una ricerca su questo pezzo qui. e poi un ottimo rapporto si è venuto a staurare con la Proloco e la Proloco poi con la Fondazione Casa di Risparmio.